L'aeroporto d'Abruzzo non ha più un direttore generale dallo scorso luglio. È passato quasi un anno e la saga, la società che ha la gestione dell'infrastruttura, ha revocato l'avviso di selezione pubblica per la relativa nomina. Il deputato Dem, Luciano D'Alfonso, rimarca la distrazione prolungata che potrebbe portare a conseguenze gravi. Nasca questo direttore generale che rassicura l'Enac e l'Europa e non corriamo rischi di perdere la concessione, quella ottenuta a fatica, con tanta fatica, nel 2007, quando ero sindaco di Pescara e mi facevo carico di tallonare, sollecitare e tutelare, attraverso la bravura anche dell'allora direttore generale Stromei. 18 mesi di requisiti esperienziali, dirigenziali sono pochi, lo dice la legge. Ci sono osservazioni su quel requisito che andavano tenute da conto, osservazioni fatte dalla Regione. Più che di incapacità si tratta di insipienza, rimarca D'Alfonso che non fa fatica a trovare il termine adeguato e aggiunge però un neologismo. Bisogna evitare la teramanizzazione della nomina. Dette in altri termini, qualche nome ha già incarnato il profilo del pericolo da scampare. Il posto vacante ha tra le sue nevralgie la presenza della politica, serve invece una figura che possa soddisfare requisiti tecnici. Poi sul piano della comunità nazionale, gli operatori degli aerei vogliono sapere se quell'aeroporto è durevole, stabile, ha le misure di sicurezza e non che giri col foglio rosa. E' quasi un anno ormai. Lasciamo in pace l'aeroporto, il suo presidente, la sua personalità giuridica, facciamo scegliere questa figura, rimettiamo in ordine, poi programmiamo la firma del contratto di programma e facciamo in modo che questo aeroporto venga giudicato credibile. Non va bene quello che è accaduto. Si è già verificato lì a San Gritana, lo abbiamo visto anche altrove, abbiamo smascherato quell'operazione, tra virgolette, di politicizzazione. Non deve diventare un argomento per fare più uno in una campagna elettorale. L'aeroporto è un'infrastruttura che deve durare almeno altri 50 anni nella sua potenza di connessione. Grazie a tutti.